Sì, perché mi ha detto Max, sei tu che vinci la partita. Ho detto sì, 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 perché io quando giochi sempre, mi vai davanti, anche mi vai davanti sempre, c'è qualcuno che è dietro a me, che mi ha detto fai questo, fai questo, perché quello è il primo campionato di me, è un po' difficile per me, veramente. C'erano i compagni della squadra, tutti mi aiutano sempre, Max, vai qua, vai qua, vai qua, vai qua. Io ho sentito di fare gol sempre, sempre, quando vai dentro il campo, sempre, sempre. Sempre ho detto io faccio gol oggi, faccio gol, faccio gol. Faccio uno gol, non è due, uno gol, Marco ha fatto uno. La cena, la cena paga Filippo. Filippo, 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 Filippo. Anche la gol, io l'ho dato Garzetta, veramente, Garzetta, il padre di Garzetta, l'ho dato la gol. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, veramente, tutta la squadra e le dirigenti, tutti, grazie.